amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un gravissimo lutto per la famosa attrice che perde la figlia in giovane età e prima di saperne di più vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video un fulminaccia al sereno affunestato il cielo del mondo del cinema una grandissima interprete ha detto addio alla figlia davvero troppo presto questo è il tragico fato toccato alla famosissima attrice britannica anna cenzelor per chi non la conoscesse o semplicemente per chi non la ricordasse diciamo che anna cenzelor ha preso parte a film come quattro matrimoni e un funerale una ragazza il suo sogno e la ricordiamo anche per il suo ruolo nella serie da un tonebbe anna cenzelor ha 58 anni è una delle attrici britanniche più famose al mondo e veniamo all'attualità cari amici di youtube diciamo che anna ha subito un gravissimo lutto infatti la giovane figlia poppi di appena 36 anni ha perso la vita a seguito della leucemia e leggiamo le bellissime parole di anna cenzelor poppi era ed è un'incredibile forza vitale di creatività compassione arguzzi bellezza e assoluta unicità ha trasformato le nostre vite e ne siamo grati amici youtube la riflessione di anna cenzelor ci fa riflettere forse ci fa pensare che i nostri cari rimangano con noi anche dopo la morte ci piace immaginarlo e a tal proposito voglio citare una frase di isabella land la morte non esiste figlia la gente muore solo quando viene dimenticata mi spiegò mia madre poco prima di andarsene se saprai ricordarmi sarò sempre con te amici di youtube scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo video e delle mie riflessioni io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video vi ringrazio per il vostro commento iscrivetevi al canale condividete il vostro commento iscrivetevi al canale